Arrestati dagli agenti della squadra volanti della Questura di Arezzo, gli scippatori seriali che nelle ultime settimane avevano messo a segno diversi colpi, soprattutto nella zona di Saione. Vittime le donne anziane a cui venivano letteralmente strappati di dosso i monili in oro. I due, marito e moglie italiani, lui di 38 anni, lei di 35, al sesto mese di gravidanza e con svariati precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza di reato poche ore dopo l'ennesimo colpo messo a segno in Viadovizi. Il modus operandi era sempre lo stesso, come ci spiega il dirigente dell'UPG della Questura di Arezzo, Vincenzo Alagia. Questa coppia agiva con uno schema ormai consolidato, prevedeva l'azione di lui che in maniera molto rapace aggrediva da dietro le donne afferrandoli al collo e strappandogli dalla gola la collana, sempre travisato con un cappuccio nero e con degli occhiali da soli neri, che noi tra l'altro abbiamo sequestrato, e a pochi metri di distanza vi era a bordo la sua compagna che gli faceva da palo e anche da veloce autista, visto che lo seguiva a bordo di questa utilitaria nera dal quale poi è partita questa, diciamo così, operazione, mediante il quale dopo pochissimi minuti, dopo aver commesso la rapina, potevano sparire pressoché indisturbati. Le vittime predesignate erano sempre anziane signore, anzi io invito tutti coloro che abbiano assistito a uno di questi episodi, perché spesso la vittima non riesce a dimostrare, non riesce a riconoscere il proprio aggressore proprio perché viene presa alle spalle, ma se vi sono alcuni testimoni, qualcuno che ha potuto osservare la scena dall'esterno come terzo, ecco potrebbe essere un valido aiuto. Rubavano per fame o una Bonnie and Clyde insomma all'italiana? Ecco l'ha detto lei, purtroppo insomma la similitudine è un po' romantica, però effettivamente una professione ce l'avevano ed era proprio questa, tanto è vero che stavano affliggendo la nostra città, non si può dire ormai da mesi, con uno schema che funzionava e che purtroppo non è stato facile all'inizio come dire scoprire, ebbene erano dei veri e propri professionisti, anche per la rapidità di lui nell'atto predatorio e nell'abilità poi di lei nel far perdere le tracce con l'autovettura. Questa volta però grazie insomma a un'attività che è iniziata con un'attività di informazione del poliziotto di quartiere, che è la nostra pattuglia appiedata, che svolge una funzione di contatto, di prossimità con gli esercenti commerciali, con i cittadini per le strade e piano piano si è, come dire, riempito il mosaico fino a quando poi i tasselli hanno portato effettivamente alla, diciamo così, alla possibilità di identificare l'autovettura e in effetti è stato proprio quello il punto di partenza dal quale poi è iniziata l'attività che si è svolta nel pomeriggio di ieri.